Ancora un grave episodio di cronaca nella nostra città. Questo pomeriggio, poco dopo le 16.30, sparatore in un distributore di benzina nella zona orientale di Salerno. Il grave fatto di sangue è accaduto al distributore Equate in via Rocococchi a Pastena. Un giovane di 21 anni è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco, esplosi da due persone in sella ad uno scooter per motivi ancora da accertare. Il giovane, riverso in una pozza di sangue, è stato immediatamente soccorso dai volontari dell'Humanitas con l'ambulanza di tipo A con l'animatore a bordo ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio, rugida ragona di Salerno, dove è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico ed ora è in prognosi riservata. Il 21enne è stato raggiunto da tre proietteli. Dalle prime notizie sembrerebbe che i colpi d'arma da fuoco siano stati esplosi dal passeggero dello scooter. Il 21enne è ferito e incensurato. Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Salerno e quelli della locale compagnia che sono impegnati nelle indagini per risalire agli autori della sparatoria. Fortunatamente a quell'ora nella zona non c'era quasi nessuno per strada. In ogni caso, quanto accaduto, lascia senza parole e ripropone ancora una volta il problema della sicurezza nella nostra città.